Ciao! In questo video parlerò un pochino del gruppo armato che dal giugno 2014 si chiama Stato Islamico, cercando di esporre quello che ho avuto modo di capire io a riguardo. La prima cosa che va detta sull'Isis è che non si chiama più Isis, anche se in tanti continuano a chiamarlo così e lo fanno per un buon motivo, però di questo vorrei parlare più tardi. Mi li propongo anche per questo, come ho fatto per gli altri video, di mantenere un linguaggio quanto più neutro e un taglio quanto meno fazioso mi sia possibile. però restando consapevole del fatto che ho letto un numero inevitabilmente limitato di testi e di articoli a riguardo e che oltretutto li ho filtrati con la mia testa. Per non parlare del fatto che reperire informazioni attendibili e magari anche convergenti su un'organizzazione terroristica non sia proprio ovvio. Prima di partire vorrei dire un paio di cose, perché buona parte di noi non ha molta familiarità con il panorama medio orientale e perché vorrei che questo video fosse chiaro e comprensibile anche per la fiore di dieci anni fa per cui il Medio Oriente è quel coso là che ci sono i musulmani. Brevemente, sciiti e sunniti. Sono due rami dell'Islam. Esito della più grande scissione nella storia del credo islamico, avvenuta negli anni immediatamente successivi al 632 d.C., anno della morte del profeta Maometto. Maometto è stato il fondatore del primo califato islamico e in molti ancora oggi si riferiscono a quel periodo in termini di età dell'oro dell'Islam. Ora, la spaccatura tra sciiti e sunniti si è aperta al momento della scelta di un successore alla guida del califato. I sunniti volevano eleggere un nuovo califo, mentre gli sciiti volevano che la successione aspettasse per via familiare ad Ali, che era il genero di Maometto. Il nuovo califo venne eletto, quindi prevalsero i sunniti, che tuttora sono un ramo maggioritario dell'Islam e hanno una presenza fortissima in Arabia Saudita. Lo sciismo, invece, è il primo dei rami minoritari dell'Islam. La sua culla è nella moschè irachena dell'imam Ali a Najaf, ma la sua presenza più forte è in Iran, dove è il culto ufficiale di stato. Ora, quello che oggi si chiama Stato Islamico è un'organizzazione terroristica di fondamentalismo islamico sunnita, come lo è anche Al-Qaeda. E all'inizio era uno dei tanti piccoli gruppi che operano in Medio Oriente. Era un braccio di Al-Tauhid wal-Jihad, che è un gruppo jihadista formatosi negli anni 90, il cui leader era il giordano Abu Musab al-Zarqawi. Ma prima di parlare di lui vorrei fermarmi un attimo sul termine jihad. Esistono due jihad, una grande e una piccola. Etimologicamente, la radice del termine è la parola araba traducibile con sforzo. La grande jihad è infatti lo sforzo di interpretazione del Corano attraverso la propria mente e la propria vita, quindi la lotta per vincere il peccato e avvicinarsi a Dio. La piccola jihad, invece, è la difesa armata dell'Islam contro i suoi aggressori. Ma da quando Osama Bin Laden ha cominciato a usare il termine nel senso di guerra giusta contro l'oppressore, si è cominciato a tradurre il termine jihad con guerra santa, ma erroneamente. Ma torniamo ad al-Zarqawi, che in realtà vuol dire semplicemente che viene da Zarqa, che è una città in Giordania. Nel dicembre 2004, Osama Bin Laden, emiro di Al-Qaeda, nomina al-Zarqawi come capo di Al-Qaeda in Iraq, con cui quindi si fonde al tawhid al-jihad. Al-Zarqawi, peraltro, è stato usato come anello di collegamento tra Al-Qaeda e il regime dittatoriale sunnita di Saddam Hussein per poter dar via all'invasione anglo-americana dell'Iraq e destituire Saddam, che è quanto è successo nel 2003 con la Seconda Guerra del Golfo. Salvo scoprire poi che quel collegamento tra Al-Zarqawi e Saddam Hussein non era stato verificato e in realtà non esisteva, solo che all'epoca nessuno immaginava che Bush e Blair potessero fornire informazioni di quella portata senza che fossero verificate. E nel maggio del 2003, Paul Bremer, che era il governatore civile dell'Iraq occupato dagli americani, dopo aver destituito Saddam Hussein e abbattuto il suo regime, emanò un paio di decreti famosi. L'ordine numero uno, che metteva al bando il partito di Saddam, quindi il Ba'ath, e l'ordine numero due, con il quale si smantellavano le forze armate regolari irachene, l'esercito iracheno. Quindi, all'improvviso, un 400.000 unità dell'esercito iracheno furono esclusi da ogni tipo di incarico militare e fu negato loro anche il trattamento pensionistico. Ma poi ci chiediamo perché abbiano cominciato a organizzarsi tra loro in gruppi paramilitari e ce l'abbiano tanto con gli americani e il nuovo governo sciita voluto da loro. Ad ogni modo, il 7 giugno del 2006, Azarkawi muore in un bombardamento statunitense. Il nuovo capo di Al-Qaeda in Iraq diventa Abu Ayyub al-Masri. E qualche mese dopo, nell'ottobre del 2006, al-Masri annuncia la fondazione di al-Dula al-Iraq al-Islamiyah, lo Stato Islamico dell'Iraq, il cui acronimo è ISI. E Abu Omar al-Baghdadi, occhio che questo è Abu Omar e non Abu Bakr al-Baghdadi, si autoproclamò comandante dell'ISI, mentre al-Masri, che di fatto deteneva il potere, figurava come ministro della guerra. A questo punto, le truppe statunitensi fornirono ulteriori mezzi per le operazioni contro l'ISI e il 18 aprile 2010, al-Masri e Abu Omar al-Baghdadi furono uccisi in un'incursione irachena e statunitense. E pochi mesi dopo, gli Stati Uniti dichiararono che l'80% dei pesci grossi dell'ISI erano stati uccisi o catturati. Ed è qui che entra in scena Abu Bakr al-Baghdadi, rilasciato da pochi mesi dal campo di detenzione americano di Camp Bukka. Diviene leader dei resti di Al-Qaeda in Iraq e poi nel 2012 fu nominato nuovo comandante dell'ISI. L'organizzazione però era stata appunto decimata dagli attacchi degli americani e quindi al-Baghdadi decise di ricostituire l'alto comando dell'organizzazione affidando gli incarichi a ex militari o ex agenti dei servizi segreti del partito Ba'at, quindi il partito di Saddam Hussein, e che avevano servito sotto il regime di Saddam. Ora al-Baghdadi appare da subito come un leader un po' particolare e che ha in testa idee un po' particolari. Comincia a prendere le distanze dal progetto di Al-Qaeda che era tanto concentrato sul colpire obiettivi statunitensi e comincia invece a puntare contro obiettivi sciiti, quelli del governo di al-Maliki, estremamente impopolare e voluto dagli statunitensi, nel senso che sono stati loro ad aver più o meno imposto che la carica di primo ministro spetti a uno sciita. Così facendo al-Baghdadi comincia a riaccendere e ad alimentare il conflitto settario tra sciiti e sunniti in un progetto che inizialmente sfugge alla comprensione di Al-Qaeda. Ora al-Baghdadi è iracheno, è nato non si sa troppo bene dove ma vicino a Baghdad. E a differenza di al-Zarqawi non è di umili origini, anzi rivendica una discendenza diretta dal profeta Maometto. Oltretutto pare che si sia laureato e che abbia fatto anche un dottorato di ricerca all'Università di Baghdad in studi islamici e che prima di essere catturato dagli statunitensi nel 2005 fosse un imam, quindi una guida religiosa. E in effetti il linguaggio che utilizza al-Baghdadi non è affatto quello di un pazzo carnefice quando ha parlato nell'estate 2014 nella grande moschea di Mosul. Peraltro vestito da imam ha detto Ora il progetto di al-Baghdadi va oltre la piccola jihad, vi aggiunge un obiettivo molto ambizioso e al tempo stesso molto concreto che è quello di creare uno stato islamico, uno stato che ricomprenda l'intera ummah dell'islam, l'intera comunità islamica, al di là delle bandiere nazionali. In altre parole vuole rifondare il califato di Maometto, quello del VII secolo. In realtà questo è un progetto che attraversa l'intera storia dell'islam, nonostante non vi faccia riferimento né il Corano né la Sunna, che è un altro testo sacro dell'islam, è più o meno un codice di comportamento. E nella storia dell'islam ci sono stati tre califati, tre realizzazioni solo parziali del progetto. Prima c'è stato un califato arabo, poi uno egiziano e poi l'ultimo, quello ottomano. Quello di al-Baghdadi è un califato che si ispira alla scuola di pensiero salafita, cioè quella che vuole ritornare alle fonti, alla predicazione originaria e allo stile di vita del profeta Maometto. E vuole anche restaurare integralmente la sharia, che è la legge islamica che si basa solo sul Corano e sulla Sunna. E questa versione moderna del califato sarebbe per loro una società perfetta, perché espressione politica della volontà di Dio. Ma al tempo stesso al-Baghdadi aveva capito che rifondare il califato partendo dall'Iraq sarebbe stato troppo difficile, perché l'isi era ancora troppo piccolo e troppo debole. Al-Baghdadi vide in Siria il terreno ideale per conquistare nuovi territori e per farsi pagare dai ricchi sponsor i mezzi che gli servono. E perché? Perché la Siria è devastata dalla guerra. È piena di aree in cui le infrastrutture sono crollate e l'autorità politica si è dissolta. E al tempo stesso al-Baghdadi ha previsto un conflitto molto lungo in Siria e ha scommesso sul non intervento internazionale. E ci ha pure preso. Ma prima di spiegare perché, un paio di cose sulla Siria bisogna dirle. Ora, nel marzo del 2011 si è cominciato a protestare contro il governo siriano di Bashar al-Assad. E nei mesi successivi il conflitto si è militarizzato progressivamente. Bashar al-Assad è sciita, alawita per la precisione, ed è figlio del dittatore Hafez Ashad che è morto nel 2000. E all'inizio si sperava che il figlio Bashar avrebbe attuato una svolta democratica. E invece niente, ha mantenuto la dittatura monopartitica con tanto di censura della stampa e rifiuto di dialogare con le opposizioni. Non riconosce le libertà politiche fondamentali e reprime molto duramente le fiammate di ribellione della minoranza kurda. Inoltre appoggia movimenti eversivi come Hezbollah e Hamas, qualsiasi sia l'opinione che ne avete. Finora la guerra civile siriana è stata caratterizzata da gravi atrocità come il ricorso ad armi chimiche o l'utilizzo dei civili come scudi umani. Tutte azioni che le parti continuano a rinfacciarsi tra loro, anche se sembra che la maggior parte delle responsabilità ricadano sull'esercito di Assad. Dicevamo che al-Baghdadi ha scommesso sul fatto che le Nazioni Unite non sarebbero intervenute. E ci ha preso, perché Cina e Russia sono favorevoli al regime di Assad. Mentre Stati Uniti, Francia e Regno Unito vogliono destituirlo. Ma il problema è che tutti e cinque sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E in quanto tali ciascuno di loro ha diritto di veto, quindi può annullare una decisione presa maggioranza. Ma il problema non è solo lì, perché in Siria la guerra è anche e forse soprattutto per procura. Questo significa che c'è una pletora di sponsor, di finanziatori più o meno occulti, che ad esempio armano i ribelli contro il regime di Assad, come fanno alcuni petrolieri in Arabia Saudita. Ed è da qui che al-Baghdadi ha pensato di prendere i mezzi che gli servivano, sfruttando la dinamica stessa della guerra per procura. Perché i gruppi ribelli nascono, si fondono e scompaiono in continuazione. I militanti stessi passano da un'organizzazione all'altra perché è meglio organizzata, o perché ha armamenti più nuovi, o programmi di addestramento più formativi, o semplicemente paga meglio. Ma i finanziatori di solito non stanno dietro a tutte queste dinamiche. Per lo più si preoccupano che l'obiettivo delle organizzazioni che foraggiano sia il loro stesso obiettivo, quindi destituire Assad. E così nell'agosto del 2011 al-Baghdadi comincia a inviare in Siria alcuni membri dell'ISI che avessero esperienza nella guerriglia per formare un'organizzazione all'interno della Siria. Il gruppo era guidato da un siriano, Abu Muhammad al-Joulani, che cominciò a reclutare militanti e a costituire cellule terroristiche in Siria. E nel gennaio del 2012 il gruppo annunciò la sua formazione come Jabhat al-Nusra al-Yal al-Shan, meglio noto come Fronte al-Nusra. Circa un anno dopo al-Baghdadi dichiarò che l'ISI e il fronte al-Nusra si stavano fondendo nello stato islamico dell'Iraq e al-Sham, l'ISIS appunto, dove al-Sham è l'antica denominazione di Damasco, capitale della Siria, e dei territori limitrofi. Ma al-Joulani, capo di al-Nusra, negò la fusione dicendo che nei luni e suoi erano stati avvisati. E intervenne persino il capo di Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, che si espresse contro la fusione. Ma al-Baghdadi rifiutò la sua decisione e disse che la fusione stava proseguendo. Al-Zawahiri allora ordinò lo scioglimento dell'ISIS, ma al-Baghdadi contestò nuovamente la sua decisione e continuò ad operare in Siria. Ma operava in maniera molto diversa rispetto al fronte al-Nusra. Anziché mantenere l'obiettivo di rovesciare il regime di Assad come faceva al-Joulani, al-Baghdadi voleva incunearsi in Siria per ritagliarsi un enclave, e spesso lo faceva lottando contro quelli che avrebbero dovuto essere i suoi stessi alleati. Come nel caso della cittadina di Assad, quando l'ISIS utilizzò molte risorse per prendere una cittadina che già dal marzo 2012 era sotto il controllo dei ribelli, rendendone evidente lo scopo di conquistare quel territorio. Questo fece infuriare Al-Qaeda che nel febbraio 2014, dopo otto mesi di lotta, rinnegò qualsiasi tipo di relazione con l'ISIS. Aggiungendo peraltro che giudicava troppo estremi i propositi di Al-Baghdadi. E arriviamo al 29 giugno 2014, quando Al-Baghdadi proclama la restaurazione del califato islamico. E non lo fa in un posto qualsiasi. Scelse un luogo fortemente evocativo per i musulmani più acculturati, che è la grande moschea di Mosul, dalla quale si avviò la riconquista islamica della terra santa occupata dai crociati. Quindi Al-Baghdadi si autoproclama califo dello stato islamico. Questo è il nuovo nome dell'organizzazione. Gli Stati Uniti non stanno fermi. L'8 agosto del 2014, Obama autorizza i primi bombardamenti mirati contro lo stato islamico nel nord dell'Iraq e il lancio di aiuti umanitari per chi fugge dalle zone occupate. Le incursioni americane permisero la fuga di molti yazzidi, una minoranza religiosa perseguitata dallo stato islamico con una ferocia tremenda. Gli hanno fucilati, altri li hanno seppelliti vivi e hanno rapito un sacco di donne per schiavizzarle. Hanno perseguitato anche i cristiani assiri e i turcomanni, centinaia dei quali sono stati massacrati nel luglio 2014 nel villaggio di Beshir. E poi gli yazzidi perpetrati nei confronti delle diverse milizie. Fucilazioni in massa di più di mille soldati iracheni a giugno a Kemp Speicher, di 600 detenuti sciiti nel carcere di Badush, di quasi 500 soldati siriani a Shaher e a Tabqa nei mesi successivi. E hanno operato massacri anche in Siria, nei confronti delle popolazioni che si ribellavano alla loro autorità. Come è successo alla tribù sunnita degli Shaitat nell'agosto 2014. E poi c'è Kobani. Di Kobani si è parlato tantissimo perché sono stati quattro mesi di vero e proprio assedio. Kobani è una cittadina siriana vicina al confine con la Turchia e controllata da un movimento indipendentista kurdo. E una parola va detta anche sui kurdi. I kurdi sono un gruppo etnico che conta più di 30 milioni di individui, il che li rende uno dei più grandi gruppi etnici ancora privi di unità nazionale. I kurdi infatti sono una popolazione la cui regione storica, che loro chiamano Kurdistan, è attualmente suddivisa fra Turchia, Iran, Iraq, Siria e Armenia. Ed è più di un secolo che i kurdi cercano di ottenere la creazione di un Kurdistan indipendente o perlomeno autonomo. Ma gli attuali stati che li ospitano si sono sempre opposti, ignorandone di fatto le richieste politiche e reprimendo duramente le insurrezioni armate. Come nel 1991 in Iraq, quando Saddam Hussein fece uso anche di armi chimiche e biologiche per spegnere la lotta autonomistica kurda. Ma dalla caduta del regime di Saddam i kurdi hanno ottenuto un'ampia autonomia nell'ambito del governo regionale del Kurdistan in Iraq, in cui dispongono di un parlamento e di un governo autonomi e anche di una milizia indipendente fatta dei loro combattenti che chiamano Peshmerga. Diverso il caso dei kurdi in Turchia che non godono di alcuna autonomia. Verso la fine degli anni 70 cominciò a crescere la mobilitazione dei kurdi in Turchia. Tramite l'azione di partiti legali come il Partito della Democrazia del Popolo e le iniziative di lotta armata del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che nel corso degli anni 80 si oppose ai gruppi indipendentisti più favorevoli al dialogo per portare avanti guerriglia e operazioni terroristiche. Oggi il PKK è un partito politico illegale in Turchia e un'organizzazione paramilitare, che a causa degli attentati dinamitardi e kamikaze ai quali ha fatto ricorso per colpire obiettivi militari turchi, è attualmente considerata un'organizzazione terroristica dalla Turchia, dagli Stati Uniti, dalla NATO, dall'Iran e su richiesta degli Stati Uniti anche dall'Unione Europea. Anche se in realtà in Europa sono state avanzate diverse richieste di rimuoverlo dalla lista e considerarlo invece una legittima forza di resistenza. Ma torniamo a Kobani. Kobani lo Stato Islamico la prese di mira già nel luglio 2014 e tentò nuovamente di conquistarla con un durissimo attacco a settembre. Kobani nei mesi successivi è stata stretta in un assedio impressionante. È stata soprannominata la Stalingrado del Vicino Oriente per sottolinearne la strenua resistenza, perché le forze dello Stato Islamico riuscirono a penetrare nei soborghi della città e si ritrovarono costrette a combattere casa per casa contro i resistenti kurdi di ambo i sessi giorno e notte. A gennaio 2015 arrivarono in aiuto i raid aerei della coalizione internazionale e le forze kurde riconquistarono Kobani dopo quattro mesi di combattimenti e più di duemila vittime. Ma non è finita, perché il 25 giugno di quest'anno lo Stato Islamico ha attaccato nuovamente Kobani, anche con missioni suicide, uccidendo più di 250 kurdi. Ma negli ultimi mesi lo Stato Islamico ha attaccato ancora, continuando a filmare parte delle esecuzioni e a pubblicarle su Twitter, da cui vengono costantemente rimosse. Ci sono testimonianze di stupri programmati e altri gravissimi episodi, come la distruzione di statue e di altri reperti presenti nel Museo di Mossul, o del Tempio di Bel nel sito archeologico di Palmira, in Siria, che è patrimonio UNESCO. E dal febbraio 2015 lo Stato Islamico ha preso sotto il suo controllo anche la città libica di Sirte, in Tripolitania. Per quanto riguarda invece l'attentato alla sede di Charlie Hebdo, pare che non siano stati quelli dello Stato Islamico, ma due jihadisti affiliati ad Al-Qaeda. Anche se uno dei due ha collaborato in passato con Al-Qaeda in Iraq, quando a capo c'era al Zarqawi, tra l'altro. Quello che mi interessa adesso è cercare di individuare i motivi per i quali lo Stato Islamico è riuscito a fare quello che ha fatto finora. In che modo è riuscita ad attirare tanti militanti, e in che modo ha intenzione di gestire e sta già gestendo i territori che controlla. Ma per far questo è importante precisare che la genesi del califato è profondamente e inevitabilmente intrecciata con decenni di politica occidentale in Medio Oriente. E non solo in Medio Oriente in realtà. È almeno dagli anni 50 che è ripartito il sogno del califato tra gli studiosi islamici e i fondamentalisti. E lo Stato Islamico è in effetti la prima forza militare che sta riuscendo a ridisegnare i confini mediorientali tracciati dal Regno Unito e dalla Francia negli accordi di Sykes-Picot, scritti durante e dopo la Prima Guerra Mondiale in occasione del crollo dell'impero ottomano. Ed ecco che in un Medio Oriente fortemente destabilizzato da decenni di macerie, l'idea di una nuova entità che sorge come una fenice per riunificare il popolo islamico e in particolare porre fine alle discriminazioni che questo subisce. Si presenta per alcuni come un grande messaggio di speranza per cui sono pronti a combattere. Le discriminazioni, in particolare quelle nei confronti dei sunniti, sono attualmente presenti in Medio Oriente ad esempio con la dittatura sciita di Assad o la mancata integrazione dei sunniti nel tessuto politico iracheno, proprio perché reduce da una dittatura sunnita. Ma anche in Europa, come negli Stati Uniti e anche in Australia, spesso per gli islamici quella dell'integrazione è una lotta continua, soprattutto per i giovani. E a tutto questo lo Stato islamico in qualche modo risponde e lo fa in modo molto più concreto rispetto ad Al-Qaeda. Offre la speranza di uno Stato con tanto di infrastrutture socio-economiche e nel quale sentirsi cittadini a pieno diritto. Non è un caso che tanti militanti avanzino il paragone con Israele. E non è un caso che lo Stato islamico sia il gruppo jihadista che paga meno i suoi militanti, tanto di meno. Solitamente gli jihadisti percepiscono salari molto più elevati rispetto alla media dei civili. Sembra invece che i militanti dello Stato islamico prendano meno di un terzo di quanto guadagna in media un muratore in Iraq. E questo perché la motivazione ideologica è molto più forte. A differenza degli altri gruppi jihadisti, lo Stato islamico non si mantiene solo con la guerra di conquista e i suoi militanti non sono pseudo-mercenari disposti a saltare da un gruppo all'altro per una paga più alta. Lo Stato islamico è riuscito a costruirsi un'immagine di ottimo addestramento, buona organizzazione e massima serietà. E questo grazie anche alla serie di successi militari che hanno avuto un fortissimo impatto su una popolazione scoraggiata dalla corruzione dilagante. Non solo di governi e di regimi, ma anche di organizzazioni come Hamas e l'OLP. Un'altra differenza sta nel fatto che per al-Baghdadi l'appoggio della popolazione è importante tanto quanto la fedeltà dei militanti. Ha messo da subito sul tavolo un'offerta di programmi sociali e di collaborazioni per le popolazioni dei territori occupati. Certo, quando non si ribellavano. E probabilmente ha cercato da subito il loro consenso anche per ottenere al più presto l'indipendenza economica dagli sponsor, che sapeva che non l'avrebbero finanziato a lungo. Dicevamo infatti che al-Baghdadi ha sfruttato i finanziatori della penisola arabica come il Kuwait, il Qatar e l'Arabia Saudita che volevano il rovesciamento del regime di Assad a Damasco e che hanno fornito indirettamente anche l'accesso e l'addestramento per l'uso di attrezzature militari occidentali. L'ISIS ne ha approfittato immediatamente per andare a prendersi i pozzi petroliferi della Siria nord-orientale, una grossa risorsa, affiancandolo all'attività di contrabbando soprattutto al confine con la Turchia. Subito dopo aver fatto questo ha cercato di cooptare i leader locali tramite politiche di alleanza con le tribù sunnite, cercando di far sentire la popolazione non come un gruppo di vittime oppresse da un conquistatore, ma come cittadini di uno stato moderno. L'offerta di programmi sociali è infatti molto concreta. Si parla ad esempio di forniture di frutta e verdura, piuttosto che di supporto nella gestione dei panifici e nella distribuzione delle derrate alimentari. Hanno effettuato campagne di vaccinazione antipolio e a RACA, dove c'è il quartier generale dello stato islamico, hanno creato una mensa dei poveri e un ufficio che ha il compito di trovare famiglia per i bambini orfani. Inoltre l'arrivo dei militanti coincide spesso con la sistemazione delle strade e l'accesso alla corrente elettrica per tutto il giorno. E tutto questo non può che aumentare il consenso interno di pari passo con i militanti. E il consenso interno, come si diceva prima, serve per assicurarsi la fedeltà dei combattenti come dei cittadini. Nonostante tutto questo, ai nostri occhi si è in profondo contrasto con l'immagine che abbiamo dello stato islamico e che l'organizzazione stessa dà di sé tramite le atrocità che commette, che rivendica e che pubblica su Twitter. E chiaramente si parla sempre di collaborazione con tribù sunnite e disposte ad accettare le condizioni non sempre così allettanti. Per quanto riguarda la giustizia, ad esempio, si tratta di accettare un sistema di tribunali di sharia con tanto di polizia itinerante che ne esegue le sentenze, tra le quali, per dirne una, è prevista anche la crocifissione. E per quanto riguarda la questione religiosa, si parla indubbiamente di proselitismo aggressivo. Per esempio, i cristiani che abitano a Raqqa hanno tre possibilità. Convertirsi all'islam di rito sunnita, oppure pagare la jizia, che è una tassa religiosa parecchio onerosa, la terza è la morte. Per quanto riguarda l'omosessualità, invece, è prevista direttamente la pena capitale. Eppure alcuni giornalisti che osservano da tempo la situazione medio orientale sono convinti che la violenza per lo stato islamico sia soprattutto un mezzo per fare propaganda. Perché le notizie che contengono fatti cruenti sono sempre ben accette sulle prime pagine. E secondo loro, al-Baghdadi sfrutterebbe questa dinamica per ottenere visibilità, per cercare di mostrarsi molto più forte di quanto non sia e cercare di spaventare un nemico impari che è fatto di eserciti regolari e di coalizioni internazionali. Lo stato islamico, infatti, si avvantaggia regolarmente dei social media, soprattutto di Twitter, organizzando campagne di hashtag molto popolari e ben coordinate. E nonostante i loro feed vengano regolarmente censurati, loro li ricreano di continuo. E uno dei grandi errori dell'Occidente è sicuramente quello di prendere per buono tutto quello che pubblicano. E l'organizzazione ne ha approfittato, soprattutto all'inizio, per spacciarsi per un gruppo potente e sofisticatissimo e creando il mito di al-Baghdadi come sceicco invisibile. Che in realtà non è molto diverso da quanto fecero gli occidentali qualche anno fa creando il mito di un al-Zarqawi super terrorista, molto più forte e più potente di quanto fosse in realtà. E così l'ISIS prima e lo stato islamico poi, che ha continuato a fornire una potente immagine di sé finché potente non è diventato per davvero. Ed è lì che sono andati tutti in panico. Perché la proliferazione di gruppi sponsorizzati ha creato una pletora di organizzazioni troppo piccole e deboli per contrastare lo stato islamico. E il quadro ha continuato a complicarsi. Le alleanze si sono fatte sempre più mobili e sfuggenti. Dicevamo che la Russia arma Assad, mentre gli Stati Uniti, anche se non ufficialmente, armano i ribelli siriani. E quando il 10 settembre 2014 Obama ha annunciato di aver dato il via libera ai bombardamenti in Siria per contrastare lo stato islamico, Assad con la Russia dietro ha detto che senza la sua approvazione quella era un'aggressione. Quanto all'Arabia Saudita, roccaforte di fondamentalisti sunniti e ostile ad Assad, è sospettata di aver contribuito alla creazione del califato. Ma a luglio 2014, subito dopo che al-Baghdadi si è autoproclamato califo, l'Arabia Saudita ha schierato 30.000 militari lungo il confine a scopo difensivo. E si è ritrovata a doversi allineare contro voglia alle politiche statunitensi. Nonostante, ad esempio, gli Stati Uniti siano pro-governo sciita in Iraq, mentre l'Arabia Saudita chiaramente non lo è. E poi c'è l'Iran, l'Iran sciita e quindi ostile allo stato islamico, che si trova invece a legare più facilmente con l'attuale governo sciita in Iraq. E quindi, paradossalmente, è costretto ad avvicinarsi agli Stati Uniti. Ma ci sono anche i kurdi. Nell'agosto del 2014, i militanti del PKK sono corsi in aiuto dei Peshmerga, le milizie kurde irachene, per fermare l'avanzata dello stato islamico, quando anche gli Stati Uniti facevano di supporto ai Peshmerga con i raid aerei. Quindi, di fatto, si sono ritrovati a cooperare gli Stati Uniti e il PKK. Solo che il PKK è il primo nome sulla lista ufficiale americana delle organizzazioni terroristiche. E mettiamoci pure la Turchia, che non sostiene appieno gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti contro lo stato islamico armano anche i kurdi iracheni, appunto. E il presidente turco Erdogan teme che questo possa far alzare la testa anche ai kurdi in Turchia. Anzi, quest'anno Erdogan ha violato la tregua e riaperto le ostilità contro il PKK, bombardandone anche le postazioni. E forse gli stessi Stati Uniti, dopo aver armato le opposizioni contro Assad, si ritroveranno costretti a sostenerlo in funzione anti-stato islamico, consentendogli di conservare la presidenza in Siria. Lo stato islamico, per il momento, è quello che si dice uno stato guscio, ma al-Baghdadi ha scelto appunto di chiamare così la sua organizzazione per veicolare l'idea che si tratti di uno stato a tutti gli effetti. Motivo per il quale, ad esempio, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato la decisione di utilizzare come nome del gruppo l'acronimo ISIL proprio per non assecondare il progetto e non veicolare l'idea che si tratti di uno stato riconosciuto dalla comunità internazionale. Ma se lo stato islamico dovesse davvero riuscire a costruire una nazione usando strumenti terroristici per il controllo territoriale e attuando riforme per promuovere il consenso interno, se davvero riuscisse a costituire un'unità nazionale che ci si può anche rifiutare di riconoscere, ma con la quale in effetti si è costretti a fare i conti, lo stato islamico dimostrerebbe ciò che tutti i gruppi terroristici hanno sempre sostenuto. Ciò che i terroristi non sono criminali ma combattenti impegnati in una guerra per rovesciare un regime. Una guerra che richiede l'utilizzo di strumenti terroristici e quindi di gravi episodi di violenza. E questo avrebbe una portata enorme. Per tutti questi motivi credo che la questione dello stato islamico vada affrontata con estrema attenzione, cercando di comprenderne a fondo la genesi, i propositi e le dinamiche, con il rispetto che dobbiamo nutrire nei confronti di qualsiasi popolo e con l'intolleranza che è necessario adottare nei confronti di qualsiasi atrocità.